non c'è il pubblico che non lo stai solo in un ottimo un giocino adesso andiamo da le ore su, trocate, da gore rupi dite l'apso 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 Stiamo tranquIo, dai dal'è, testa, levano, 3 , levano, nascita, 1,2,3, levano, gaslight, 1,2,levo,resna, 1,2, desna, 1,2, levo,resna, 1,2, desna, 1,2, desna, 1,2, desna, 1,2, desna, 1,2. per otro vai 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 sc segni we è passato ora cadere più ovo 3 jukarra goods ora passiamo 4 seselere 1 2 3 4 10 on waiting Kansas esatto io yunico Ora seguiamo la Roma l'è 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 Un'altra la parte. Un'altra parte. Non si può fare. Noi, noi, noi. Noi, 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 noi.